Ciao ragazzi, un po' che non ci si vede, scusatemi se la voce è un po' raffreddata. Oggi volevo un attimo aggiornarvi sulla situazione ESSEC Erasmus. Non so se avete visto il video sull'Erasmus, ma per chi non l'ha visto, brevemente mi trovo adesso a Sergi, vicino a Parigi e sto facendo un exchange semester, che poi non è un vero e proprio semestre perché sono solo 4 mesi e poco più, all'ESSEC Business School di Parigi. L'ESSEC Business School è una di quelle università target che ho spiegato in un precedente video e quest'anno il Financial Times l'ha rencata quarta per il Master in Finance e sesta al mondo per il Master in Management. In questo video vi voglio un attimo dare i miei feedback sulla mia esperienza finora qui all'ESSEC da studente italiano di una università pubblica normalissima come Ca' Foscari a Venezia e aggiornarvi un attimo sulle impressioni. Poi ovviamente magari farò un video alla fine dell'Erasmus per darvi un feedback definitivo. Anzitutto, dato che l'esperienza di ognuno è estremamente soggettiva, vi vado un attimo a delineare la mia situazione e così potete prendere con le pinze tutto quello che dico. Io ho scelto di non vivere a Parigi. L'ESSEC attualmente ha un campus molto grande che si trova per motivi di spazio fuori Parigi, nella periferia di Parigi, in una piccolissima cittadina che si chiama Sergis. Sergis è circa un'ora di treno o di rer da Parigi, 45. E io ho deciso di non prendere la casa a Parigi, ma di vivere in un residence insieme ad altri miei amici qui e qui a Sergis appunto. È un residence molto grande, ognuno ha la sua stanza privata che comprende una stanza, un bagno e una mini cucina. Il mio Erasmus è partito il 1 settembre e terminerà il 20 dicembre, con gli ultimi esami il 18 se non sbaglio. I corsi che attualmente sto frequentando sono M&A, Private Equity, Private Equity and Venture Capital, Corporate Finance, Strategic Management, Beginner French e Blockchain Unchained, e anche Business History, però è un corso breve. Dopo vi spiegherò meglio comunque nel dettaglio la struttura dei corsi, come funziona, perché è abbastanza diverso dall'Italia. Un piccola considerazione su le scelte che ho fatto io ad esempio di vivere a Sergis rispetto a Parigi. Qualora voi stiate considerando ESSEC per un Erasmus o per un Master. Io in realtà da una parte ci sono dei pro e dei contro. Assicurati dal punto di vista della vita a Parigi, io mi sono un po' pentito, perché vivendo a Sergis continuerete a vivere a Parigi da turista, perché ogni volta ho un'ora di treno per andare e tornare, quindi ci andrete solo nei weekend, dato che le settimane sono abbastanza intense, però siete vicino al campus, quindi dall'altra parte non avete la scomodità di prendere il treno la mattina e poi tornare la sera dopo una lunga giornata. Quindi dipende da cosa vi interessa di più voi. Se guardate la convenienza nella vicinanza del campus, Sergis tutta la vita, altrimenti se volete un attimo di vivere la vita parigina, prendetevi una casa a Parigi. Se devo essere sincero, mia opinione personale è tornando indietro a ripresa la casa a Parigi. Perché è un peccato appunto non vivere il clima a Parigino, ma soprattutto quando andate a divertirvi la sera, che magari andate nei club a Parigi o in giro, gli orari di treni sono limitati, quindi l'ultimo treno è a luna che parte per Sergis e il primo della mattina alle 5.30. Questo significa che praticamente ogni volta che andate a fare serata dovete tornare alle 7 di mattina a Sergis e questo non è proprio il massimo. Ovviamente a meno che voi non vogliate prendere un Uber o un taxi che si aggira comunque intorno ai 100 euro. Adesso voglio fare un po' di considerazioni su come è una business school in generale, una top business school e le differenze che ha da una classica università italiana. Innanzitutto strutturalmente è proprio diversa. Lì c'è un campus gigantesco con mille attività, mille laboratori. Si vede che hanno più salve da investire perché ad esempio alle SEC c'è il K-Lab per finance con tutti i terminali Bloomberg. Poi ci sono i laboratori per quelli che vogliono fare graphic design, marketing, computing hack attrezzati. Ci c'è la sala trading. Un sacco di aule dedicate per studiare la libreria, super organizzatissima. Ci sono dei ristoranti all'interno del campus. Ci sono tre mese, c'è uno Starbucks. Ci sono un sacco di aule a disposizione degli studenti per i più sbagliati scopi. Anche le associazioni studenteschi hanno tutti quanti i loro uffici. C'è un bar degli studenti all'interno. Cioè è proprio una mini città. Poi un'altra cosa diversa è il fatto che sarà un mix culturale assurdo. Perché in una top business coach sono studenti che vengono a tutto il mondo davvero. E avete modo di conoscere e lavorare con persone con diversissimi background culturali. A mio parere c'è anche più consapevolezza sul mondo del lavoro e come funziona, diciamo, tutte quelle regole non scritte. È più facile trovare persone motivate, magari con cui preparare, non so, application, interview, case study, eccetera. Rispetto ad un'università pubblica italiana. Anzi sono quasi sempre tutti che fanno application. Poi anche l'università aiuta molto su questo punto di vista perché hanno solitamente le business school hanno dei career service pazzeschi. Organizzano continuamente company presentations. Esperti che vengono apposta a fare training su come passare le interview delle più grandi aziende, sia per banking, che per consulting, fanno case preparation. Ovviamente è programma di tutti i facoltativi. Ci sono un sacco di aziende che aprono posizioni esclusive per i studenti da quella business school. Quindi avete anche dei vantaggi su determinate application. E veramente le aziende sono molto molto più presenti nei campus rispetto magari alle università classiche italiane. Ora invece posso parlare più nello specifico di com'è ESSEC perché chiaramente prima ho detto in una molto generale raccogliendo la mia esperienza e quella un attimo dei miei amici che sono in giro per il mondo in diverse business school. Mentre posso parlare più nello specifico per ESSEC. Allora, innanzitutto non era come me lo aspettavo. Nel senso che è molto rilassato il clima in realtà l'ESSEC. Gli studenti più motivati e più driven sono quelli internazionali. I studenti francesi invece qui devono praticamente fare un test. Devono studiare un anno prima di applicare per il bachelor in una top business school che si chiama Grande Call. Poi devono fare un esame di stato molto difficile. Una volta che l'hanno passato praticamente smettono di preoccuparsi di studiare e si rilassano. Bisogna solo divertirsi. Quindi sostanzialmente gli studenti del luogo qua all'ESSEC al bachelor studiano davvero molto poco. Quelli internazionali che ci tengono di più sono più sul pezzo. Però comunque non dovrete mai studiare veramente dei libri come in Italia. Cioè proprio anzi non ve li fanno nemmeno comprare. Anzi proprio in realtà i libri non ci sono. Cioè non dovete comprare nessun libro per nessun corso. Le lezioni sono molto più lunghe che in Italia. Durano tre ore. Tre ore a lezione con una pausa e mezzo di 15 minuti. Quindi sono abbastanza intense. E potete avere da un minimo di una lezione al giorno fino a tre lezioni allo stesso giorno. Quindi nove ore di lezione. E cambiate le aule. Chiaramente a seconda della lezione sono molto più piccole le aule. Sono circa massimo per 40 studenti. Massimo. Però il numero medio direi che sono 30, 25, 30. I corsi ce ne sono alcuni obbligatori a seconda della laurea che state volete prendere. Altri invece, molti invece sono facoltativi. Sceglietevi a quali iscrivervi. A seconda del percorso e del taglio che volete dare alla vostra appunto laurea. E siete in classe sia con studenti francesi che con studenti internazionali. Le lezioni sono quasi tutte in inglese. Ci sono anche alcune lezioni in francese ma la maggior parte sono in inglese. I professori sono... La differenza principale nei professori, secondo me, è che qui sono tutti prima professionisti e per i professori. C'erano tutti fatto esperienza lavorativa e non sono nati... Non hanno fatto un percorso accademico. A differenza dell'Italia dove magari hanno sempre insegnato. Quindi... Ma questo non vuol dire che siano per forza bravi. Perché io ho visto qua un professor di essere dei grandi professionisti sul lavoro ma non così tanto abili nell'insegnamento. E quindi... Gli corsi di finanza solitamente sono ex investment banker oppure partner di fondi di investimento, fondi private equity che poi vengono a insegnare... Ma appunto il curriculum professionale non è correllato alla capacità di insegnamento. Però, tuttavia, questo si riflette molto sul metodo d'apprendimento che decidono di adottare. E infatti, qua le lezioni, in generale, sono molto più orientate verso un approccio pratico che teorico. Questo perché... Uno, non ci sono libri. Si studia. E due, c'è questa cosa chiamata continuous assessment. Cioè il voto... Non c'è mai un esame finale che determina il 100% del voto. Alcuni corsi non c'erano nemmeno un esame finale. Altri ce l'hanno ed è assolutamente un quiz che impatta solo il 20%. Poi c'è questo continuous assessment che significa che voi durante tutto il corso dovrete fare delle presentazioni, consegnare dei project work, fare degli esercizi particolari o dei progetti. E ovviamente in base al corso avrete valutati. Ogni assignment avrà un peso diverso a seconda del professore. Però, solitamente, o almeno una presentazione per corso, quindi significa che avete un gruppo con cui dovete fare una ricerca, poi un PowerPoint esporo da vendita tutta la classe, aumentando. Ad esempio, per il corso di M&I ogni settimana devo fare un'evaluation di un'azienda e quindi consegnarla in tempo. E poi ci sono altri corsi dove mi hanno richiesto, ad esempio, di scrivere dei paper, degli articoli. E qua non esistono gli esami orali, cioè non ci sono mai esami orali, tipo uno a uno col professore come in Italia. Al massimo, appunto, sono presentazioni dove si parla o davanti a tutta la classe, ma al prof raramente fanno domande e mettono in difficoltà. I voti sono da 0 a 20 e mentre gli esami finali sono quasi sempre scelta multipla. Però dipende davvero tanto dall'esame, cioè ad esempio c'è un esame che stanno facendo i miei amici, che si chiama SimTrade, con la simulazione di trading, dove avete accesso a una piattaforma e dovete tradare ogni settimana, seguendo le notizie, i grafici e la performance finale termina il vostro voto. I voti sono da 0 a 20, 20 al massimo e non corrisponde a 30 rode. Basta prendere un 16 per aver convertito un 30 rode, perché qui 20 e nessuno lo prenda praticamente, cioè è davvero impossibile. Io non ho ancora incontrato una persona che abbia preso un 20 e solitamente prendere 12-13 è veramente facilissimo, cioè è quasi impossibile non passare un corso, a meno che non si sia assenti a più di due lezioni, perché dopo due lezioni o prendete 8 punti sull'esame finale oppure direttamente non passate. Però se voi frequentate, prendere meno di 12 è veramente tosta. Poi per quanto riguarda 15-16 dovete al minimo impegnarvi, secondo me è di prendere un 28 in Italia, per prendere un 15. Per prendere un 16-17 è più difficile di prendere un 30. Quindi veramente sopra il 17 dovete, non basta fare tutto giusto, intervenire sempre a lezioni, andare a parlare con il professor in privato, potete migliorare davvero il corso per tutti gli studenti grazie ai vostri interventi e al vostro dibattito. Alcune classi sono strutturate sul dibattito. Bonalmente alla mia classe di strategic management, noi ci dobbiamo ogni volta per caso leggere un articolo e poi un caso aziendale e poi l'intera lezione è un dibattito tra tutti gli studenti sul caso aziendale. E quindi conta anche molto le interazioni che avete, come esponete le vostre argomentazioni, bisogna anche sapere essere diplomatici in un certo senso. Non preoccupatevi troppo per il livello di inglese, perché business English è diverso da conversazione normale. Se siete un po' sul settore, vi piace leggere, siete un po' appassionati, vi dovrebbe venire molto più semplice a parlare di business e quindi secondo me già con un B2 avanzato non avete problemi. Poi i professori sono quasi tutti francesi che parlano in inglese, quindi anche loro sono molto facilmente comprensibili, vanno piano e non è difficile. Altra cosa molto figo il discorso dei project work, perché vi dà modo di lavorare con studenti da paesi diversi che lavorano in un modo completamente diverso da voi. Questo può essere molto utile nel futuro se volete lavorare in un ambito internazionale, perché sapete come gestire le diverse culture. Ad esempio io ho lavorato con un cinese, con un indiano e con uno svedese e tutti e tre avevano un approccio al lavoro completamente diverso. E anche il modo di comunicare e far funzionare il team era diverso, dovevate adottare un approccio diverso a seconda della situazione. E poi vi rendete anche conto di come cambia la preparazione degli studenti a seconda del paese in cui vengono. Ad esempio dalla Svezia sono tutti molto forti, materie finanziarie, media tutti molto forti su materie quantitative. Ma comunque devo dire che noi italiani ci difendiamo benissimo rispetto agli stranieri. Forse noi non siamo tanto verticali su qualcosa, ma siamo più tondi a livello di skills. Abbiamo una preparazione più a 360 gradi e questo ci ha vantaggio. Ad esempio secondo me le materie di management dove conta di più l'approccio critico, il problem solving, l'analizzare la situazione, il fatto di aver studiato magari filosofia, letteratura, alle superiori torna utile. A differenza di studenti internazionali che queste materie non le studiano mai nella loro vita. E conoscere persone qui inoltre è veramente semplice perché avete mille scuse, mille eventi a cui poter andare per conoscere nuove persone. Sono veramente tutti aperti a nuove conoscenze, un po' meno gli studenti francesi, è molto più semplice con quelli internazionali. Vi può capitare benissimo che camminate per il campus, vi fermano e iniziano una conversazione in alto e poi vi chiedono di trovarvi, andare fuori a Parigi la sera insieme a divertirvi. C'è una cosa all'ordine del giorno, non è difficile socializzare assolutamente. Detto questo, una cosa che mi ha un po' lasciato amareggiato è che il SEC nello specifico è un po' deconcentrante. Nel senso che davvero nel campus ci sono un sacco di distrazioni ed è sembra un parco giochi, certe volte. Cioè per dirvi hanno montato l'altro giorno una piscina gonfiabile al centro della hall e la gente faceva surf. Oppure hanno montato il Pungible, il tornei di FIFA e dentro i corridoi. Ci sono queste associazioni studentesche che fanno un sacco di robe fuori di testa. Certe volte non so neanche il motivo, ad esempio l'altro giorno c'era una ragazza con un pesce in mano che schiaffeggiava delle persone. Cioè robe assurde. Che sì però è divertente però vi distrae anche molto, vi distrae anche molto. Ad esempio c'è sempre musica per tutto il campus, per le persone che fanno casino. E questo non c'è nulla di male nel divertirsi così però secondo me preferisco l'approccio ad esempio delle scuole americane o di altre business school dove magari ci sono degli edifici separati dove fare tutte queste cose però restano un po' sacre diciamo le parti dedicate alle aule dove si studia e oppure dove si fa lezioni. Mentre qua è tutto un unico edificio con tutto che succede ovunque. Un'altra cosa che vale per la mia esperienza ma penso anche per le altre. Quando andrete in Erasmus preparatevi a dover fare il doppio delle cose in metà del tempo. E soprattutto perché uno se voi non vivete fuori sede comunque gestire la casa porta via tempo. E' il tempo che prima non dovevate dedicarci ma questo è il minimo. Qui veramente non è che dovete studiare i libri però le deadline si sovrappongono e ci sono molti e quindi questi assignment sono scanditi nel tempo. Quindi non è che avete la data finale, vi potete gestire come volete. No, siete sempre sotto pressione perché dovete sempre consegnare e deliberare. E poi chiaramente c'è anche il lato del divertimento quindi magari i weekend vi vanno via perché si va a Parigi, si va a divertire. Diffici a gestire il tutto ma questo può essere sia una cosa positiva sia una cosa negativa perché poi una volta finita questa esperienza sarete migliorati sotto questo aspetto. Con questo video aggiornamento è tutto, speriamo di vederci presto con un prossimo video. Non so di quando ragazzi perché qua è tutto molto dinamico, dipende appunto dal discorso che ho appena fatto. Però spero di riuscire appunto a portarvi nuovi contenuti presto. Mi fa molto piacere che gli iscritti siano cresciuti anche se non ho pubblicato video per questo ultimo mese e che comunque avete continuato a scrivermi e a contattarmi su Instagram, su LinkedIn. E quando riesco cerco sempre di rispondere a tutti. Ragazzi ci vediamo al prossimo video. Se volete nuovi contenuti lasciate mi piace e iscrivetevi.